Bene, benvenuti amici di internet a questo nuovo appuntamento con 10 minuti con e con grande piacere che quest'oggi ho l'opportunità di parlare, chiacchierare e ce l'avremo anche noi e di conoscere Andrea Stara. Ciao Andrea. Ciao, ciao a te. Andrea è un gran personaggio della città di Torino, presidente della circoscrizione 2, fa un sacco di cose e adesso cerchiamo di conoscerlo un pochettino meglio. Vediamo la prima fotografia, eccola qua, è intuibile, si parla di sicurezza, cosa rappresenta questa foto? Ma questa foto abbiamo il sindaco di Torino e rappresenta una targa che abbiamo dato in circoscrizione 2 nella sede della Cascina Gioione a una persona, Michelle Ngaba, una persona di colore perfettamente integrata nel nostro territorio ma che è stato aggredito quest'estate durante un punto verde che noi organizziamo sempre in Cascina da dei ragazzotti che lo hanno aggredito in maniera molto violenta e per fortuna noi avevamo un servizio di presenza composto dai City Angel e gli hanno salvato la vita. Noi dopo questo episodio abbiamo voluto fare un ordine del giorno e comunicare a tutti i residenti della nostra circoscrizione che eravamo assolutamente, condannavamo questo tipo di episodi e abbiamo voluto dare una risposta sociale. Il territorio ha dato una risposta meravigliosa perché in Cascina sono arrivate circa 800 persone, abbiamo consegnato la targa a Michelle Ngaba, l'ha consegnata il sindaco di Torino in persona e abbiamo presentato anche l'attività dei City Angel e questo è un po' il motivo su cui volevo fare due parole cioè io credo che sul tema della sicurezza dobbiamo fare una riflessione profonda anche come centro-sinistra. Bisogna portare avanti innanzitutto i temi della legalità per portare avanti i temi dell'integrazione. Le due cose devono andare insieme e allora un'associazione di volontariato come i City Angel può essere utilizzata anche come presenza amica sul territorio. Per chi non li conosce i City Angel? Sono quelle ronde che dicono? No, assolutamente. Io sono contrario alle ronde, sono contrario alla giustizia del fai da te e del far west, invece sono contrario a portare, a far sì che i territori vengano vissuti. Se un territorio... Sono favorevole a far sì che i territori vengano vissuti? Con progetti, con realtà associative e anche in questo caso con i City Angel. Per cui se noi facciamo vivere un territorio le persone che escono la sera, di giorno, possono girare con tranquillità. In questo caso i City Angel non vanno alla ricerca del nemico ma vanno alla ricerca di chi ha bisogno. Sono un'associazione che è nata a Milano oltre 15 anni fa. Noi a Torino gli abbiamo dato una sede in via Gaidano 79, nella circoscrizione 2 e abbiamo attivato con loro dei servizi, un'associazione di volontariato ovviamente, in cui a parte il fatto che aiutano i bisognosi, portano il cibo ai balboni, le coperte eccetera, ma oltre a questo hanno iniziato anche a essere presenti in alcune aree del territorio, Parco Rignon, Piazza d'Armi, il mercato di Corso Sebastopoli, ovviamente in stretto contatto con la circoscrizione e con i vigili urbani. Per cui se succede qualcosa e si assistono a qualche cosa, un reato, un'aggressione eccetera, ovviamente contattano immediatamente le forze dell'ordine ma sono un deterrente. La loro presenza fa il deterrente e poi ovviamente contattano le persone che sono sul territorio, aiutano un anziano ad attraversare la strada. Il classico servizio d'ordine? No, non è un servizio d'ordine, è un servizio di aiuto alle persone. Se in un parco loro sono presenti, sentono le persone, chiedono come va, come non va, se hanno bisogno di qualcosa, sono lì ad aiutare il prossimo. Ripeto, non vanno alla ricerca del nemico ma sono una presenza amica. Ovviamente è una presenza ben visibile perché hanno delle giacche rosse e hanno un berretto, un casco blu e questo significa che hanno una visibilità che fa da deterrente. Bene, passiamo alla prossima fotografia. Eccola qua, questa non è una fotografia, è uno schema. Zona 30 l'ora, sei stato criticato perché dicevi che le macchine andavano a girare a 30 l'ora nel tuo quartiere, ma è vero? No, assolutamente. Noi abbiamo fatto un progetto sperimentale su un'area molto grande di circa 10.000 abitanti nel territorio di Mirafiori Nord in una viabilità secondaria ed è un progetto di moderazione del traffico. Abbiamo semplicemente partecipato a un progetto regionale e siamo stati bravi perché lo abbiamo vinto e quindi siamo arrivati primi in assoluto rispetto a tanti altri comuni. Abbiamo ottenuto un finanziamento complessivo da parte del Comune e della Regione di circa 600.000 euro ed è un progetto che ha visto all'inizio delle difficoltà, soprattutto da parte dei commercianti. Erano preoccupati insomma che con l'allentamento delle velocità, con la dissuasione degli attraversamenti parassitari, cioè le persone che attraversano una zona residenziale semplicemente per poi uscirne senza vivere quella zona, erano preoccupati magari che potessero esserci meno acquisti o meno commercio. E il risultato? Il risultato è stato straordinario perché terminato il progetto abbiamo visto che i giornali hanno intervistato gli stessi commercianti che sono stati entusiasti, le persone anche. Le macchine andavano più piano, comunque c'era più sicurezza e abbiamo ricevuto una settimana scorsa i risultati sulla diminuzione degli incidenti e del traffico e credo che il fatto che ci siano meno feriti e meno incidenti sia la soddisfazione più grande che ci siamo dati. Noi per studiare questa cosa siamo andati a chi questo progetto lo già porta e lo sperimenta da tanti anni, cioè a Barcellona. Aspetta che abbiamo un'altra fotografia, eccoti qua, eccoti qua a Barcellona con vari componenti. Sì, questa è una foto con la presenza dell'assessore alla viabilità ma anche dell'assessore all'istruzione perché moderazione del traffico significa anche educazione, educare una vita più sostenibile e quindi abbiamo pensato, lì ad esempio il progetto viene costruito, le zone 30 a Barcellona sono già attive da molti anni e funzionano benissimo con la soddisfazione dei residenti, ma funzionano anche perché sono coinvolte le scuole e ci sono dei percorsi educativi con i bambini, vengono coinvolti i genitori e quindi questo è quello che abbiamo fatto anche da noi con le scuole all'interno della zona 30. Molto interessante questo progetto, ecco qua, vediamo la prossima fotografia, eccola qui, una specie di, no, vediamola insieme, vediamo anche di mandare l'altra, ecco, prima e dopo, che cosa è successo qui? Un miracolo? Ma allora direi di sì, nel senso che è un miracolo che è partito sei anni fa con la presentazione di un progetto europeo sulle periferie degradate, sulle periferie industriali e in sostanza Mirafiori Nord, noi sappiamo che Mirafiori Nord ha avuto il peso e la fortuna, a seconda dei momenti legati allo sviluppo della Fiat. Nella fase di crisi della Fiat abbiamo presentato un progetto alla comunità europea, ci è stato finanziato e abbiamo portato 40 milioni di euro sul territorio di Mirafiori Nord per rivoltarlo come un calzino. Il prima è, ad esempio, la cascina Roccafranca, come era sul territorio, completamente diroccata e il dopo è, come oggi, non solo una cascina riqualificata e ristrutturata, ma anche un incubatore civico pieno di associazioni del territorio, pieno di attività, ristoranti, caffetterie e soprattutto tante associazioni che realizzano progetti che ricadono poi sul territorio. Si può chiamare un centro di socialità, quasi. Assolutamente. Bene, passiamo alle ultime due fotografie, in realtà forse riusciremmo a farne passare soltanto una, però cerchiamo di accumulare entrambi gli argomenti degli ultimi minuti che ci rimangono, anzi l'ultimo minuto e mezzo. Ecco, abbiamo il bike sharing, vediamo subito questa foto, e il last minute market. Ecco, due progetti per mettere, come dire, secondo me la società, la cittadinanza più vicina, più solidale, più economica. Legato al progetto delle zone 30, il bike sharing, siamo partiti in assoluto per primi, oggi la città di Torino, l'unico bike sharing esistente è nella circolazione 2, e quindi la gente può con una chiavetta gratuitamente prendere delle bici che sono collocate in sette punti del nostro territorio, andare in giro per il territorio e riportarla nella lastrelliera. Il last minute market invece è un progetto molto più grosso, cioè recuperare gli invenduti nei supermercati e dai produttori, per rimetterli in circolazione, soprattutto per i soggetti deboli, attraverso i nostri servizi sociali, e quindi recuperare l'invenduto e portare a chi ha bisogno del cibo e anche altri prodotti. Noi salutiamo Andrea Stara, ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti.